Grazie ai consierci si possono organizzare dei tour molto personalizzati. Sì, vengono in mente delle cose molto particolari, come ad esempio la mongolfiera sulla città di Firenze, sul centro, sui monumenti, sui palazzi storici della città. Questa è un'esperienza unica che sicuramente bisogna fare almeno una volta nella vita. O altrimenti un giro in barca, una vecchia barca antica fiorentina ristrutturata, non vorrei dire gondola però è molto simile, e vedere la città dal fiume da una prospettiva molto diversa. Queste sono cose che secondo me andrebbero provate. Oppure possiamo uscire dalle mura fiorentine e immergersi nella campagna, nel Chianti, visitare paesi e cittadine uniche che si possono trovare a pochi chilometri di distanza.